buon pomeriggio a tutti ecco come si vede cambio del look total rimane solo una bella barba da fare comunque a parte questo sono qui per presentarvi le due partite che si svolgeranno oggi a strani per quanto riguarda la fortitudine a trani giovanile parliamo dell'under 13 coppa puglia girone b siamo alla sesta giornata di andata la fortitudine trani blu questo pomeriggio alle ore 17.30 presso il pallone tenzostatico affronterà la nachterlitz che al momento è ottava in classifica con una vittoria e quattro sconfitte mentre la fortitudine è settima sempre una vittoria e quattro sconfitte poi un attimo la regia poi sempre l'under 13 ma parliamo della fase ora girone b fortitudine trani bianca sempre questo pomeriggio alle ore un attimo si sembra questo pomeriggio ma prima della partita della della coppa puglia la fase ora le 16 sembra il tenzostatico fortitudine trani bianca contro il nuovo matteo ottico raddo fortitudine trani bianca che al settimo posto con purtroppo zero vinte e cinque perse mentre la nuova matteo ottico raddo è al primo posto con quattro vinte su altrettante partite quindi ricordatevi alle 16 e alle 17 e 30 a seguire appena riuscirò ad essere a conoscenza del risultato della partita giovanile di ieri farò un bel video comunque viva la sport la palacanese sempre forza fortitudine cuore biancazzurro azzurro